Sono passati solo un paio di giorni da quando il ministro per l'università Anna Maria Bernini è arrivata a Pescara anche per partecipare alla firma del contratto per la realizzazione dello studentato universitario al Ferrotel. A rivendicare il progetto però è Marinella Sclocco, consigliera comunale della lista civica Sclocco Sindaco. A proposito del Ferrotel, Marinella Sclocco dice che? Dice che è l'ennesima volta che Mascio e Marsilio annunciano l'apertura del cantiere del Ferrotel proprio a ridosso delle elezioni e per l'ennesima volta il cantiere non c'è. L'idea e i fondi per la ristrutturazione del Ferrotel che riqualificherà anche una zona centrale di Pescara è un'idea della sottoscritta, i fondi li ha trovati la sottoscritta grazie anche al lavoro in sinergia con l'amministrazione comunale di centro-sinistra che c'era prima al governo del centro-sinistra quindi il centro-destra si è trovato questi fondi sul piatto disponibili ma per cinque anni di fatto hanno rallentato tutto. Sono fondi ministeriali per far sì che il Ferrotel possa diventare una casa per lo studente quindi corrispondendo anche al diritto allo studio dei giovani abruzzesi e non che vengono a studiare in Abruzzo.